ciao ragazze benvenuto di nuovo sul mondo cosmetic allora oggi nuovo video spacchettamento allora mi è stato chiesto qualche volta insomma se facevo dei video spacchettamenti e siccome ne ho fatto qualche qualcuno forse all'inizio però in realtà era più una mini review dei prodotti questa volta invece facciamo proprio un video spacchettamento molto semplice quindi cercherò di farlo più breve possibile giusto per farvi vedere un pochino i prodottini che mi sono arrivati con il secondo ordine che ho fatto due ordini da campagna album 4 allora l'album 4 era molto molto ricco di offerte soprattutto per il makeup e per i gel doccia iniziamo subito vi dico che mi sono arrivati due pacchi però già l'ho aperti l'ho semplicemente aperti e ho tolto due tre prodottini da uno scatola all'altro modo da avere uno pieno da quale prendere prodotti e l'altro vuoto dal quale metterli allora iniziamo subito vabbè ho preso come mio solito gli album gli album 5 che sono tutti dedicati alla festa della mamma io ne ho presi 15 perché essendo capogruppo mi voglio dire tengo sempre tanti album al di là di quelli che io comunque ho per la vendita io ho anche per le ragazze che voglio iniziare a lavorare con me per cui insomma ne ho sempre tanti questi qua quelli che ho acquistato io ne ho acquistato 15 oltre a quelli del già l'altro ordine che avevo fatto questi sono me li ha mandati l'azienda direttamente poi vabbè troviamo la fattura che come sapete vi ho già detto che si paga col bollettino alla posta che già ha scontato delle provvigioni che ci vengono riconosciute tutto il dettaglio insomma della delle fatture della fattura dettagli prodotti va andiamo subito a sodo vabbè all'interno trovo sempre il bigliettino che ci dice chi ha preparato il pacco ma andiamo avanti allora cosa mi è arrivato queste queste qui sono delle matite delle matite jumbo in realtà sono delle matite che possono essere utilizzate sugli occhi e possono essere sfumate come ombretto e durano tutto il giorno sono bellissime e queste qui in realtà sono me ne hanno ordinate tantissimo perché erano su un volantino ogni tanto l'azienda non era su album ogni tanto l'azienda mette dei volantini delle offerte e appunto sono particolarmente vantaggiosi per cui insomma alcuni clienti hanno acquistato diverse matite questo in particolare nel color celeste e sono veramente fantastiche a mi piacciono tantissimo e appunto sono madite quindi due di questo mi sembra che il costo fosse 3,95 da volantino poi fondotinta fluido mattificante quindi per tutte le persone che hanno la pelle grassa e che vogliono un finish abbastanza opaco non troppo luminoso e questo qui appunto mi è stato ordinato da una mia cliente ed era in offerta a 9,95 sono 30 ml di prodotto non ha l'erogatore cioè non ha la pompetta ed è un classico fondotinta fluido però appunto opacizzante poi ho acquistato vabbè e queste erano sul tra di noi che in realtà è questo libricino che viene riservato alle venditrici diciamo sul quale ci sono delle offerte al di là di alcune offerte vantaggiose ma ci sono anche delle offerte su prodotti che possono essere utili possono essere utili per noi magari confezionare i prodotti e in questo caso le etichette con il loghi noi grossi che sono veramente molto carine molto utili per confezionare i pacchettini insomma tutto quello che ci viene ordinato andiamo avanti allora smaltino della nuova collezione questo qui in particolare era è uno smalto diciamo un porpora brillantinato molto bello non so se si riesce a vedere bene ecco forse perde un po per le luci comunque è veramente molto bello anche questo era in offerta sul volantino delle offerte mi sembra 2,95 una cosa del genere poi andiamo avanti questo è un nastrino sempre che era nel tra di noi sempre per confezionare i prodotti un nastrino verde appunto colore euro che mi servono tanto perché io ad ogni confezione di prodotti faccio sempre delle confezioni belline allora c'era un'offerta sull'album 4 dedicata ai gel e crema doccia in particolare erano questi qua si poteva scegliere uno di questi set a 5 euro quindi 3 gel doccia otri crema doccia insomma diverse profumazioni differenziate per set quindi esotico profumo fruttato golosità e profumo riente e stavano 5 euro io adesso ne ho presi diversi per cui faccio vedere adesso sfusi le profumazioni che hanno che mi sono arrivate comunque lavandino lavare lavandino sì perché c'è stato lavandino però comunque lavanda della di provenza poi fior di cotone dell'india molto bello è una delle mie profumazioni preferite un altro fior di cotone della fior di cotone dell'india fior di magnolia bellissimo secondo me questo di questi ce ne sono tre se non ricordo male sì eccoli qua sono bellissimi questi sono molto pratici anche per chi va in palestra perché vedete sono così e ce ne vuole pochissimo di questo prodotto per cui non è che finisce immediatamente però è molto pratico da mettere nella borsa poiché ingombrante molto idratante soprattutto quello in crema è molto fresco quello in gel insomma bellissimo poi andiamo avanti questa profumazione qui che il fior di loto ed è stupenda secondo mi veramente sono delle profumazioni fantastiche sono le mie preferite quella diciamo lavanda pure mi piace però le altre profumazioni secondo me sono veramente fantastiche poi ho ordinato per una mia cliente la terra faccio vedere come arriva che era in offerta su album 4 ed è questa qui praticamente c'è in due colorazioni questa qui è la diciamo quella un pochino più scura l'acqua micellare ai tritte detossinanti questa acqua è molto molto particolare perché ha un'azione particolare perché a parte va bene per viso occhi e labbra quindi per tutto il viso e poi è appunto a questi tritte detossinanti che fanno in modo di purificare la pelle a fondo e renderla fresca senza tirare senza ungere senza pesanti insomma veramente una buon prodotto e devo dire che chi la prova poi non la lascia più veramente veramente molto bella a qui c'era un altro fior di loto vi ripeto questo è il secondo ordine che io ho fatto l'album 4 insomma alcuni già mi erano arrivati però insomma allora questo qui è un prodotto secondo me meraviglioso perché è un illuminante era in edizione limitata su album 4 ve lo faccio vedere in effetti era questo qui a 12 euro e 95 ed è un illuminante che era in due colorazioni io già avevo quella rosa e mi mancava questa qui appunto nel beige dorato che secondo me è veramente bella perché io l'ho provata ed è molto delicata da questo effetto di illuminante sì questo sicuramente però non molto invadente quindi riesce a si può avere un effetto sia illuminante solo su alcuni punti ma è anche molto particolare perché in estate sulla bronzatura può essere applicata in maniera un po più uniforme sulla viso e da questo effetto ancora più sublimante della bronzatura quindi veramente secondo me fantastica e insomma l'ho presa questa è mia poi allora shampoo riparazione in realtà questo è appunto nutri riparazione all'olio di jojoba ed è fantastica e ricordo che sono tutti gli shampoo senza silicone e senza parabeni e senza coloranti ed è uno degli shampoo preferiti di una particolare di tanti miei clienti però di uno in particolare che dice che non riesce a vivere senza e quindi insomma me l'ho ordinato poi maschera per i capelli questa invece della della linea nutrizione la linea nutrizione e la linea lavena sono all'interno vediamo se me lo ricordo 150 ml ce ne vuole veramente pochissimo perché riesce a rendere i capelli veramente molto morbidi molto pettinati e nutriti a fondo quindi ce ne vuole sempre molto poco ma di tutti gli shampoo e creme balsamo insomma per di live rocher poi 2 dopo barba all'aloe e all'aloe vera idratante sono appunto due dopo barba sono fantastici qua piacciono tantissimo infatti nell'ordine precedente che ho inviato erano andati in rottura diciamo erano finiti poi sono ritornati ordinabili io ne ho presi due per questo mio cliente che li voleva poi andiamo avanti allora contorno occhi della linea elixir 7.9 la linea elixir 7.9 è una linea secondo me molto bella perché racchiude all'interno a parte che io la chiamo un po' quella che è una diciamo la linea jolly perché è fantastica perché è un'antirughe un'idratante ha all'interno la combinazione di 7 piante e ha 9 brevetti questa linea per cui insomma è molto indicata per tantissime persone però generalmente per delle persone che iniziano dai 30 anni che hanno un'età compresa dai 30 anni in su questo in particolare è un roll on occhi quindi un contorno occhi che dà effetto a parte antirughe ma anche antiborse quindi insomma si hanno due effetti in uno e mi raccomando chiunque usa i contorni che ricordasse che si applica solo qui non proprio qua sotto molte fanno questo errore quindi insomma lo dico sempre questo qui della linea 7.9 poi no questo è un regalo che vi voglio far vedere dopo i regali che sono arrivati allora rughe e compattezza allora questo qui è un trattamento rinnovatore notte ed è fantastico io ce l'ho a rifare appunto uno dei video dedicati a scoprire i miei prodotti dove ve ne parlo un po' più nello specifico però in realtà è un peeling passivo quindi lo mettete la sera per andare a dormire durante la notte lui vi rigenera questa la pelle del viso e vi svegliate con questo viso luminoso e super idratato veramente fantastico appartiene appunto della linea serum che è una linea appunto antirughe all'erba cristallina poi ve ne parlo nello specifico ma è fantastico questo non può mancare a chi ama avere una pelle sana vado un po' veloce perché il video sta diventando un po' lunghetto vabbè classico bifasico struccante bifasico occhi quindi per i trucchi waterproof insomma ma anche semplicemente per togliere il mascara velocemente è fantastico io lo amo ve ne parlerò anche di questo nello specifico insomma mi è stato ordinato ed eccolo qui e poi vi voglio far vedere questi due che erano in mega offerta sull'album 4 ed è un trattamento anticellulite nel frattempo cerco l'offerta in modo che ve la faccio vedere bene comunque sono dei prodotti fantastici perché hanno azione stoccante e destoccante delle cellule adipose e di quelle che vi fanno vedere appunto la cellulite ed è uno di quei prodotti che non tocca la tiroide non fa male insomma veramente veramente fantastico non riesco a trovare l'offerta ad album comunque se non ricordo male stava tipo 35 euro adesso ve lo dico comunque la circa eccola qui eccola qui si 35 euro eccola allora in realtà la differenza tra i due prodotti e questa ve la dico in breve poi anche di questo ve ne parlo nello specifico questo è un ansiero riducente globale che va applicato su tutte le zone da trattare quindi che sia gambe, cosce, glutei, pancia, fianchi tutte le zone che hanno appunto delle adeposità e delle appunto cellulite e si vuole andare ad affinare appunto la silhouette questa invece è un trattamento d'urto che va utilizzato solo sulla zona particolarmente resistente quindi quelle zone appunto tra virgolette ribelli e dove si applica questo qui non si applica questo qui quindi insomma è una combinazione fantastica per prepararci prima dell'estate alla prova costume quindi veramente è stata un'offerta incredibile perché considerate che da soli entrambi costano insieme era un'offerta a 35 da soli costano ognuno 19,95 euro sempre un'offerta perché il prezzo pieno è 29,95 di ognuno quindi insomma veramente un'offerta incredibile e infatti ora il mio cliente l'ha presa al volo poi c'era allora vediamo una un paio di prodotti li prendo così poi ve li faccio vedere uno a uno queste cose fanno parte sempre di quelle matite di cui vi ho parlato prima però in altri due colori sempre appartenenti alle offerte del volantino questo in realtà è un rosa champagne molto bello e questo qui è un prugna vinaccia insomma veramente belli sempre come matite occhi anche perché poi queste si fissano e non vanno via questo è un altro colore verdino insomma poi ho preso una matita col in realtà è una matita 3 in 1 ma appunto va bene nella rima interna come rima appunto all'esterno è anche come da sfumare per uno smoky quindi è veramente bella e poi ho preso offerta della mamma era praticamente questa borsetta offerta festa della mamma questa borsetta con i mini dei profumini appunto i mini dei profumi dell'Evro C che sono questi qui adesso ve li dico uno alla volta comunque il bellissimo e secondo me fantastico profumo Elixir So Elixir Bois Sensual che è questo qui poi il Vanille Noir il fantastico a chi piace il profumo ovviamente dolce a vaniglia Evidence non poteva mancare della linea appunto perché è il must di Evo Rocher e Kekes Note d'Amour che è uno dei miei profumi preferiti e appunto tutti e quattro i profumini e questa borsetta erano venduti però solo per uno in ordine a 12,95 euro quindi questi qui e poi c'era un'offerta che per 25 euro di make up acquistato da album c'era la possibilità di avere in regalo un pennello e io appunto ho chiesto di ricevere questo qui che è il pennello da contouring quindi è arrivato in omaggio in questo qui ed è veramente fantastico io l'ho uso spesso per il contouring ho fatto anche il corso trucco utilizzando questo questo pennello è veramente bello passiamo ai regali come sapete l'azienda ogni tot ordini dà degli incentivi che in realtà poi sono appunto dei regali che fa l'azienda e nel caso specifico mio dovevo ricevere tre regali uno è questo qui il latte corpo nutriente molto intenso pelli molto secche al burro di carité ed è bellissimo a parte il profumo ma poi è veramente ottimo poi anche di questo ve ne parlo nello specifico la BB cream la 6 in 1 è la nuova formulazione con FPS 20 e il gommage vegetale diciamo al nocciolo di albicocca che appunto è uno scrub per il corpo quindi tutti e tre sono stati regalati dall'azienda poi sempre il regalo dall'azienda ho ricevuto un po' di materiale da lavoro perché in base all'ordine che si dia si ha materiale da lavoro gratuito quindi ho avuto una serie di campioncini tanti campioncini che poi io do non solo alle mie clienti ma anche a chi desidera provare a lavorare con la ibroshit blocchetti ordini e buste per diciamo consegnare prodottini niente questo era l'album 4 il secondo ordine che ho inviato dall'album 4 poi appena mi arriverà il primo ordine dall'album 5 ve lo farò vedere sicuramente niente vi lascio da qualche parte il link se a qualcuno di voi interessa lavorare nel live rocher e niente spero che questo video non sia stato noioso e sia stato interessante vi mando un bacio come sempre grazie per essere stati con me e anche per la visione di questo video grazie ciao